E' una gara da dentro fuori quella che attende domani pomeriggio il città di Messina al Despar Stadium. Al di là dello spessore dell'avversario, la Cireale in piena zona play-off rappresenta un ostacolo impegnativo, non ci sono alternative alla vittoria per la squadra di Peppe Furnari, reduce dalla sconfitta immeritata di Cittanova. La scontata vittoria a tavolino del Rotonda sul Troina per l'ormai nota vicenda del cambio sbagliato nel recupero di mercoledì scorso. Il classe 2000 a Sidibe è stato sostituito con il 99 concorso in barba, la regola che prevede un 98, 299 e un 2000 per tutti i 90 minuti, costringe per l'Oritania la vittoria per non vedere materializzarsi il rischio di un clamoroso aggancio o addirittura sorpassi in classifica dei Lucani, con lo spettro della retrocessione diretta impensabile fino a qualche settimana fa che comincerebbe a fare capolino in casa CDM. Non sono confortanti le notizie che arrivano dall'infermeria, dopo Fofanà, infortunio piuttosto serio anche per Costa, che dovrà dare forfè per un mese. Non stanno benissimo neanche Santoro, Calcagne e Bellopede, che si sono allenati poco in settimana. Si va verso la conferma della formazione che ha perso nel finale domenica scorsa, fatta eccezione per il dirottamento in mezzo di Silvestri, con Fragapane proposto sulla corsia. Si comincia alle 15.30, ad arbitrare sarà Bergamin di Castelfranco Veneto. Grazie a tutti.